Stavamo ricordando del tempo con voi in vacanza. Sarebbe meraviglioso se veniste a trovarci. Partiamo verso l'ignore. Ce l'avete fatta! Questa sì che è vita. Le apparenze non solo ingannano. Ehi, devi seguire la musica. Non puoi trattarlo in quel modo. Cosa c'è che non va in te? Ma qualche volta possono essere fatali. Sarà un grande giorno. Biorno, voglio tornare a casa. Ora!